Davide Guglielmo Righi, l'aggressore del 68enne tassista al freddo famoso morto martedì scorso dopo due giorni di coma, passa dal carcere agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Gianfranco Criscione, che ha derubricato il reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. Il GIP ha riconosciuto l'attenuante della provocazione. Righi ha agito in uno stato d'ira determinato dalla condotta del tassista, che dopo averlo quasi investito sulle strisce pedonali insieme alla compagna incinta, si è fermato ed è sceso dall'auto per lamentarsi. Oggi la donna ha partorito il neonato, terzo figlio di Righi, che ha già un precedente per violenza privata legato a un litigio con la sua ex moglie. La procura di Milano aveva chiesto il carcere per l'uomo e l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, che configura la possibilità di accettare il rischio di uccidere. La dinamica della vicenda avvenuta domenica sera in via Morgagna, Milano all'angolo con piazzale Bacone, sembra ormai chiara. Domani l'autopsia farà luce definitivamente sul decesso dell'uomo per capire se il colpo letale è dovuto al lancio della confezione di bottiglie d'acqua o alla caduta di Famoso che ha battuto la testa contro la ruota di scorta di un SUV parcheggiato. La famiglia del tassista fa sapere di non avere intenzioni vendicative, ma che cerca solamente giustizia e affiducia nella magistratura. Il timore dei parenti, spiega l'avvocato Lamonaca, è che Famoso venga dipinto in maniera diversa dalla realtà. Il GIP, oltre ad aver derubricato il reato, ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Domani sera alle 19 i cittadini del quartiere di Via Morgagni hanno organizzato un momento di silenzio e solidarietà sul luogo della tragedia a cui dovrebbe partecipare anche il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia.